Buon pomeriggio, sono Emilio Frattaroli, siamo di nuovo al Roma i Fidelity, oggi è domenica 28 novembre, siamo intorno alle 4 del pomeriggio, si sta svolgendo la seconda parte della seconda giornata della cremessa romana che torna dopo due anni di assenza per i motivi che conosciamo tutti e sono qui in compagnia di Dario Candarella che è il Deus Ex Machina co-founder di Il Tempio, che è una realtà di Catania siciliana che è un po' una doppia testa di punto vendita molto interessante, molto grande ma anche di distribuzione di più di 30 marchi del settore audio e high-end soprattutto e siete qui con tre sale addirittura. Sì, quest'anno abbiamo deciso di portare alcuni prodotti rappresentativi del nostro portafoglio e abbiamo così preso tre salette e montato degli apparecchi che abbiamo deciso fossero nella fascia del medio livello, medio-basso livello proprio per dare la possibilità a chi si vuole appassionare, chi anche ha un portafoglio limitato, un budget limitato di accedere all'high-end, infatti abbiamo portato degli apparecchi che vanno su una fascia di prezzo compresa tra i 1000 e i 5000 euro e anche abbiamo messo alcune cose in esposizione statica perché soprattutto i diffusori da pavimento perché visto le salette abbastanza contenute nello spazio abbiamo preferito far suonare bene dei diffusori da scaffale, da stand piuttosto che diffusori da pavimento che per accordarli nelle stesse sale e nelle stesse salette sarebbe stato anche un problema, no? Certo. E quindi abbiamo portato un paio di amplificazioni a valvole, un marchio che si sta affermando sempre di più che è Zachid Iris, è un marchio greco che fa degli apparecchi che sono veramente belli esteticamente di contenuto a livello di realizzazione di componentistica e quant'altro ma anche hanno un suono veramente invidiabile con un budget di spesa veramente contenuto perché parliamo di amplificazioni sotto i 2000 euro. Nella prima saletta appunto sogniamo con questo Zachid Iris l'Hermes che anche ha una livrea abbastanza carina perché è tutto un grigio fumo con una livrea rossa che è diciamo gradevole. Come sorgente invece noi rappresentiamo per l'Italia due marchi abbastanza conosciuti e possiamo dire anche leader che il primo è Lumin che è stato uno dei primi brand a imporsi con forza nel mondo degli streamer di rete e abbiamo portato sia l'X1 che il top di gamma che il D2 in esposizione statica mentre abbiamo anche un altro marchio molto molto interessante che è Matrix Audio. Soprattutto dal punto di vista del rapporto da prezzo. Esatto perché Matrix Audio ha questi streamer di rete che non non oltrepassano i limiti delle delle spese importanti perché arrivano a con un top di gamma di circa 3500 euro ma partono anche da dal piccolo elementi che costa intorno ai 1000 euro. Il top di gamma è l'element X e il medio livello dell'element M sono tutti streamer DAC che hanno la possibilità di essere calblati e andare su wifi ed hanno anche l'uscita cuffia con gli S Sabre che arrivano anche ai 9038 nel modello di punta e adesso è stato presentato anche il nuovo X Sabre 3 che è un un DAC con possibilità anche AirPlay e DLNA realizzato dal pieno con tutti gli ingressi digitali 2S eccetera eccetera che di cui ne sta parlando tutto il mondo perché è veramente veramente una macchina estremamente interessante come apparecchi invece a stato solido noi siamo orgogliosi di rappresentare per l'Italia il marchio Sagden inglese e abbiamo portato quest'anno due amplificatori che abbiamo fatto suonare nella giornata di ieri il Sagden A21 che è un 25 watt in classe A e l'A21 SE che è un 30 35 watt circa questi due apparecchi a parte il piccolo difetto che scaldano come delle stufe delle piccole stufe hanno un suono hanno una timbrica veramente d'eccellenza e una micro dinamica che caratterizza la classe A che è veramente molto importante in questo mondo e hanno un costo anche loro contenuto perché il primo modello costa di circa 3000 euro e il secondo sotto i 4000 e come invece i diffusori sempre tenendo la linea inglese che ci piace tantissimo abbiamo portato Acoustic Energy Acoustic Energy è un marchio che si sta facendo strada da un passato storico e blasonato si sta facendo strada sempre più con prodotti nuovi e le linee la linea 100 la linea 300 la linea 500 stanno riscuotendo specialmente in Inghilterra dove vengono diversi premi ultimo marchio di diffusori che abbiamo portato anzi un altro marchio perché poi l'ultimo un altro che abbiamo portato è Usher Taiwan abbiamo preso in mano la distribuzione di questi diffusori che hanno dei contenuti tecnologici molto importanti ad esempio hanno un twitter di proprietà costruito con degli elementi in diamante e hanno un anche la una timbrica diversa rispetto all'Acoustic Energy ma estremamente in gamma alta estremamente ferma estremamente diciamo così precisa con un basso molto articolato e che si contrappone un pochettino a Acoustic Energy che hanno invece un'impostazione timbrica un pochettino più rotonda altro marchio importantissimo che abbiamo portato che è uno dei miei marchi preferiti è Falcon Acoustic Falcon Acoustic è stato il primo produttore dei driver che sono stati montati nelle prime Kef & Rogers 3-5A infatti il B110 e il T27 sono proprietà intellettuali della Falcon Acoustics la 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 cassa delle versioni cioè c'è la versione da 16 ohm e voi qui avete portato la versione 8 solo da 16 ohm la Falcon Acoustic propone quest'anno nella versione Gold Batch Edition che dicono che quanto dai vostri colleghi si dice che sia la migliore 3-5 mai realizzata propone la versione Gold Batch Edition dove hanno raffinato ancora di più il crossover e hanno hanno cercato di tirare fuori da questo piccolo contenitore di scarpe hanno cercato di tirare fuori tutto il possibile velocità trasparenza timbrica veramente un diffusore che lascia veramente sorpresi e senza senza parole molte volte ed è 100% inglese and made in England questo è come dire è un punto d'orgoglio no? perché di tutte le 3-5 che sono fatte e sono in giro nel mercato mondiale diciamo Falcon Acoustic è la capostipide Malcolm Jones quando ha incaricato di realizzare questi componenti ha dato questo onere a Jerry Bloomfield che è il proprietario della Falcon Acoustic e quindi diciamo così loro sanno i trucchi per per tirare fuori tutto quello che che in effetti i nostri visitatori hanno riscontrato altro marchio importante che noi importiamo per l'Italia è Golden Year Golden Year è un marchio che fondato da Sandy Gross per intenderci per intenderci Definitive Technology eccetera è un marchio che si propone sia nell'audio video che nell'audio con dei diffusori che nelle prime linee sono passivi e nelle linee superiori sono attivi e non noi sappiamo perché perché le abbiamo sentite ma si siamo anche noi certe volte meravigliati perché ogni volta Stereo File li mette in testa nell'orolo classifica di migliori diffusori come rapporto qualità prezzo i modelli Triton Reference ci arrivano richieste senza aver fatto una un push di pubblicità e di conoscenza verso i nostri appassionati come invece queste case meriterebbero altro marchio che abbiamo portato è che riaudio nella versione dell'integrato a valvole Sli 100 che ha le KT 150 come valvole e lì la timbrica delle valvole e la rotondità unita alla dinamica perché è un 100 watt al canale ci ha dato veramente delle soddisfazioni molto importanti perché l'abbiamo abbinato sia ad una cassa inglese che a una cassa americana la goldeniera on 2 che ha la kusik energy e 300 casse che non hanno un costo elevatissimo perché le e 300 costano circa 900 euro mentre le goldeniera on 2 sono più o meno sulla stessa cifra intorno ai 1000 euro 900 1000 euro non ricordo esattamente abbiamo tirato fuori proprio avendo cercato la migliore sinergia nelle stanze nelle stanze a disposizione abbiamo tirato fuori un suono molto armonico senza avere esagerato quelle frequenze basse insomma veramente un un suono molto armonico molto contenuto molto equilibrato come se aveste una gamba alta molto dinamica come se ben nota la stanza avete scelto i componenti giusti per farla suonare meglio questo è stato l'obiettivo di quest'anno non è stato l'obiettivo di far vedere i muscoli anche se abbiamo portato un pre finale AR Team De Paravicini 912 bello suonatissimo pre insieme al non mi ricordo se abbiamo portato il 534 finale a valvole che abbiamo fatto suonare chiaramente con un registratore a bobbina lì si occupa il mio partner Tony che è un maniaco di questa impostazione analogica in più con due bei giradischi abbiamo portato il Kuzma lo Stabi S con un altro braccio lo Stogi con il la torretta VTA 12 pollici un bello un bello oggetto sia come realizzazione meccanica che come suono e abbiamo e questo è un un marchio sloveno che noi anche noi distribuiamo in esclusiva per l'Italia unito ad un altro marchio abbiamo proposto in un'altra saletta che è Oracle storicissimo penso che tutti gli appassionati si ricorderanno del Delphi nelle varie versioni aggiornamenti mk1 2 3 4 ora siamo arrivati alla 6 revisione B Delphi è un'opera d'arte quest'anno abbiamo proposto l'Origin che è un giradischi di una concezione diversa perché il Delphi è diciamo flottante su tre punti mentre l'Origin invece è a telaio rigido e anche di una livrea che si contrappone completamente al Delphi che è diciamo silver tutto molto luccicante eccetera invece l'Origin è nero assolutamente nero però con una striscia led che viene fornita con colori diversi a piacere del cliente può essere rossa, blu, gialla ed ha anche quel contenuto un pochettino più d'atmosfera che molti audiofili cercano nell'ascolto intimo ed esoterico delle loro serate Senti come sta andando dopo la prima giornata qual è il feedback? il feedback è diciamo estremamente positivo e quindi siamo contenti siamo molto contenti perché le persone che vengono apprezzano il suono che è la cosa che ci interessa maggiormente successivamente si incuriosiscono alle cose che non conoscono riconoscono invece i brand che nella loro memoria storica hanno un posto di rilievo e sono anche molto incuriositi da questi streamer di rete per chi praticamente viene dal classico lettore cd ancora vengono scoperti no? e si chiedono molte spiegazioni sulla su questa musica liquida su sui contenuti e anche sulle performance che questi apparecchi possono avere rispetto al tradizionale lettore cd è inutile qui non stiamo a parlare di queste cose perché non ricordiamo che tutti e due i prodotti che avete portato sia l'umic e il matrix audio sono compatibili ad esempio con tutti i principali provider di streaming assolutamente hanno applicazioni anche certificati mqa per esempio e run ready e sono run ready tutti i run ready al momento disponibili si e sono dsd fino a 44 kHz eccetera quindi sono veramente macchine eh aggiornatissime sotto questo punto di vista ecco non e in più quindi eh al di là di questo speriamo di poter eh ricevere sempre più visi nel nostro showroom di Catania che è la cosa che ci fa eh più piacere almeno dai siciliani certo e e in più presso i nostri punti vendita che sono una piccola famiglia di 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 seguaci che abbiamo in Italia eh nelle più grandi città ci siamo in quasi tutti eh in quasi tutte e e e speriamo presto di portare sempre altre novità sempre eh rappresentare al meglio questi marchi che veramente sono eh ci hanno onorato no? di 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 darci la loro eh la loro esclusiva per il territorio ci sarò anch'io perché domani ti ho fatto una promessa a gennaio verrò a trovarvi poi ho visto cioè sono dei voli da Roma ci sono tipo sette otto voli al giorno sì 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 si riesce anche a fare un'incursione in giornata e e a visitare il vostro punto vendita molto interessante e a farci qualche ascolto voglio fare voglio fare anche una un reminder molto importante che perché sai emidio abbiamo tante cose quindi dominarle tutte diventa 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 un'essente difficile cioè sì sì è facile dimenticare delle cose che sono veramente d'eccellenza però tante volte sfuggono abbiamo portato un bel diffusore quest'anno da sì è piena acustica anche quel diffusore è bellissimo però eh è lì che ti ho chiesto molto ingenuamente quando siamo venuti che siamo venuti adesso vedrete delle immagini eh il venerdì sera eh a curiosare un po' come era il setup abbiamo visto anche il montaggio del eh dell'oracle e e ti ho chiesto ma questi diffusori belli quando quando fatti sentire i diffusori da pavimento e i diffusori in boccia e tu mi hai eh gelato in maniera molto intelligente e sapiente in modo inappuntabile volevamo portare il diffusore da stand di Vienna Acoustic perché Vienna Acoustic si pregia di dire che la timbrica dei suoi diffusori da quella più piccola quella più grande è esattamente identica però eh noi sappiamo come anche tu saprai eh abbiamo eh sia specialmente per Sagden per Vienna per altri marchi che adesso non ti nomi abbiamo problemi di approvvigionamento molto importanti non ci hanno dato chiaramente sempre le solite spiegazioni ma ordinare un AIDIN purtroppo per noi è diventato una follia perché ci hanno un diffusore da scaffale ci fanno aspettare quattro mesi quindi ne abbiamo ne abbiamo ricevute due coppie abbiamo consegnato immediatamente abbiamo chiesto ad un al cliente che le aveva le aveva ricevute se prima di di portarla a casa potevamo fare questa ma giustamente anche lui doveva essere stato quattro mesi dice no ora le voglio e quindi abbiamo portato in esposizione statica la Vienna Beethoven Baby Grand col nuovo concetto di di woofer semiplanari e con questo cambio bellissimo queste lavorazioni che loro fanno del legno sono veramente splendide però purtroppo non siamo riusciti a farlo suonare come si deve e quindi preferiamo il prossimo anno magari con una sala più grande portare questo diffusore di nuovo e poterlo invece ascoltare perché veramente anche la una soddisfazione estrema poter apprendere quello che è stata la bravura di queste persone austriache nel fare questi diffusori benissimo ti ringrazio Dario per il tuo tempo e per le tue parole ci vedremo adesso nel pomeriggio in cui passerò insieme a Giampiero a fare degli ascolti presso di voi grazie a voi vi aspetto a Catania anche ciao grazie